Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale 600 grammi di cocaina purissima trovata in casa ad un albanese residente a Fano lo spaccio avveniva nella zona dello stadio a San Lazzaro Ruba le offerte dei fedeli per la ristrutturazione della chiesa a Sant'Orso arrestato dai carabinieri di Fano, il giudice lo condanna a quasi due anni di carcere Denunciato dalla stradale di Pesaro un camionista pugliese di 60 anni con il vizio di rubare cioccolatini di marca dagli scaffali dell'autogrid Pesaro ottiene l'assegnazione dei campionati europei di aerobica 2021 Presenze arrivi da ogni parte d'Italia per i mercatini di Natale a Monbaroccio Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti Spacciava cocaina purissima nella zona dello stadio nel quartiere San Lazzaro a Fano Gli agenti del commissariato lo hanno scoperto, arrestato e portato in carcere L'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Pesaro in collaborazione con i commissariati di Fano e Urbino hanno arrestato un cittadino albanese 38enne incensurato per detenzione a fini di spaccio di circa 600 grammi di cocaina recuperata e sequestrata Dalle indagini è emerso che il 38enne residente a Fano da tempo gestivo un ampio giro nel quartiere di San Lazzaro diventato il punto di riferimento per numerosi consumatori di cocaina attratti dall'elevata qualità della sostanza che smerciava ma anche per altri spacciatori di livello inferiore che poi tagliavano e suddividevano ulteriormente la droga ricevuta per ricavarne il maggior numero di dosi possibili La perquisizione all'interno dell'abitazione dello spacciatore ha portato alla luce ulteriori 600 grammi della sostanza dello stupefacente suddivisa in vari involucri posizionati in un armadio nella cantina oltre alla bilancia di precisione per un valore commerciale che si aggira intorno ai 100.000 euro Gli acquirenti che non solo interessavano la città di Fano ma si estendevano un po' in tutta la valle del Metauro quindi un bacino molto notevole, di utenza notevole Da lì tutta l'attività investigativa si è congiunta con quella operata anche dal commissariato di Urbino che analogamente procedeva per una serie di movimenti in città come Fossombrone, Acqualagna, Fermignano e la stessa Urbino Le attività come di norma proseguono non si ferma mai comunque la nostra attività di prevenzione e repressione per lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia di Pesaro Urbino L'uomo è stato tratto in arresto nei pressi dell'abitazione bloccato dalla mobile mentre era in sella alla sua bicicletta in direzione del centro città trovandogli addosso due involucri contenenti ognuno 5 grammi di cocaina pronti per la vendita e messa la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria Incidente stradale mortale verso le 14 di oggi sulla corsia nord dell'A14 vicino Forline pressi dell'area di servizio Ibevano a perdere la vita Giuseppe Marinelli 71 anni nato e residente a Fermo con lui c'era anche una donna che è rimasta ferita la Fiat Panda è uscita di strada finendo in un fossato pieno d'acqua per le forti piogge ed è morto annegato salva invece la donna di 86 anni che viaggiava con lui il parroco di Santa Maria Goretti a Sant'Orso sospettava che qualcuno mettesse mano alle offerte riservate dedicate al restauro della chiesa e la conferma l'ha avuta ieri mattina quando i carabinieri fingendosi dei semplici fedeli hanno arrestato l'autore di questi furti I carabinieri della stazione di Fano hanno arrestato un fanese per furto aggravato di offerte dalle cassette dei fedeli della chiesa di Sant'Orso le indagini sono partite dalla segnalazione del parroco di alcuni ammanchi riscontrati da tempo le offerte per loro natura non tracciate erano inserite dai fedeli in buste nominative e servivano per contribuire ad un mutuo acceso dalla chiesa per lavori già svolti il parroco ha segnalato in particolare due ammanchi riscontrati nelle giornate del 18 e del 25 novembre scorsi quando due giovani erano stati notati in entrambe le occasioni durante la mattinata introdursi nella chiesa avvicinarsi all'offertorio e uscire subito dopo con qualcosa tra le mani il sacerdote ha quantificato l'ammanco per entrambi gli eventi in circa 500 euro immediate sono scattate le indagini dei carabinieri tramite alcune immagini rilevate da un impianto di videosorveglianza del posto che ha ripreso i due in azione riuscendo a dare un nome ed un volto ai due ladri nella giornata di ieri i carabinieri hanno deciso così di organizzare un servizio in borghese di osservazione nei pressi della chiesa quando intorno alle 11 hanno notato arrivare l'uomo che dopo un breve sopraluogo ha prelevato un opuscolo da uno dei banchi e quindi con fare circospetto con una piccola pila ha illuminato la fessura delle offerte e mediante un metro flessibile in metallo sulla cui punta era presente un biadesivo ha iniziato a pescare le buste delle offerte i militari lo hanno subito bloccato e arrestato in flagranza di reato nella mattinata odierna il rito direttissimo ha condannato il giovane a un anno e dieci mesi di reclusione è applicata una multa di 400 euro è un camionista pugliese è stato denunciato dalla polizia autostradale di Pesaro per furto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno di una stazione di servizio è emerso che l'uomo aveva un debole per i cioccolatini gli agenti della polizia stradale di Fano hanno denunciato in stato di libertà il responsabile di diversi furti di merce consumati presso le aree di servizio della tratta autostradale A14 da alcune settimane infatti erano arrivate alla sede della polizia stradale di Pesaro diverse denunce relative ad ammanchi di merce da parte dei gestori delle isole di ristoro ubicate lungo la tratta della A14 vigilata dalla sottosezione della polizia stradale di Fano il modus operandi utilizzato dall'autore dei furti sostanzialmente identico in tutti gli episodi cosa che faceva sospettare agli inquirenti che l'autore fosse un ladro seriale e poi lo studio della cadenza temporale con la quale si verificavano i fatti e degli esercizi commerciali colpiti ha indirizzato le indagini degli investigatori uno degli esercizi più colpiti è stato il punto di ristoro di Esino Est dove i poliziotti hanno così effettuato particolari osservazioni mirate l'esame poi delle indagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza assieme ad un'attività di ricostruzione ha consentito di risalire ad un camionista pugliese sessantenne ritenuto essere l'autore di furti di merce per un ammontare ancora da quantificare ma che da una priva valutazione sfiorerebbe i 500 euro di valore l'autotrasportatore una volta rintracciato ed identificato ha messo le proprie responsabilità approfittando della distrazione degli addetti toglieva dalla merce per lo più generi alimentari i congegni antitaccheggio e che poi nascondeva all'interno di un borsello per poi allontanarsi con disinvoltura dal negozio ma a dare un particolare aspetto a tutta la vicenda è la scelta della merce rubata dal camionista il quale aveva una vera e propria predilezione soprattutto per cioccolatini di marca l'uomo che una volta scoperto si è dichiarato intenzionato a risarcire i commercianti del danno causato è stato denunciato però all'autorità giudiziaria e adesso le vostre segnalazioni questa sera andiamo in via Bellandra perché i residenti sono preoccupati in particolare per il traffico via Bellandra una via che corre parallela via Soncino nel quartiere di Sant'Orso è una via molto utilizzata dai residenti del nucleo storico del quartiere e che consente di raccordarsi alla nuova interquartieri verso via Pertini o di arrivare sulla Flaminia più a monte questa caratteristica però ne fa soprattutto negli orari di punta di una strada ad alta densità di traffico con una commistione difficile di diversi utenti della strada pedoni ciclisti ed auto e gli incroci inoltre a raso delle strade laterali ne accentuano la pericolosità come mostrano inequivocabilmente i segni lasciati a terra dagli incidenti verificatisi praticamente ad ogni incrocio per questo i residenti da tempo pur avendo percepito da parte dell'amministrazione la volontà di regolamentare la circolazione nella via con una zona a limite 30 vorrebbero una diversa strutturazione del flusso di auto e veicoli a due ruote che spesso e pericolosamente compiono pericolose manovre contro mano esponendo loro stessi e gli automobilisti a rischi elevati di incidenti stradali quindi vogliamo sperare che l'assessore Donnelli presto faccia vedere soprattutto ai cittadini residenti in questa via un progetto che risolva il problema in tutto come si deve una volta per tutte ripeto e che questo progetto sia condiviso con i residenti del posto che tutti i giorni tutti i momenti soffrono questa grande difficoltà qui ci sono i bambini ci sono genitori che portano i bambini a scuola è una via a doppio senso e quindi quando si incontrano due macchine la via è stretta e si rischia l'incidente tra l'altro è una zona dove ci sono stati diversi diversi incidenti diverse sono le possibilità di intervento che vengono ipotizzate da chi abita qui che vanno da un senso unico ad uno ciclo pedonale o a un doppio senso regolamentato quotidianamente i ciclisti vanno contro mano quindi ogni volta che un'auto di un residente cerca di entrare in via Bellandra si trova dal lato sbagliato una bicicletta oltretutto tutti i ciclisti tendono ad attraversare via Bellandra in direzione di via Pertini per andare praticamente in quella direzione diritto quale potrebbe essere una soluzione? la condizione ideale sarebbe un senso unico con una pista ciclo pedonale che garantisca da una parte l'incoluminità dei ciclisti e dei pedoni e dall'altra la possibilità di utilizzare la strada in modo tranquillo e idoneo tre esemplari di tartaruga caretta caretta sono stati ritrovati spiaggiati nella giornata di oggi i tre esemplari tutti adulti di peso variabile dai 10 ai 20 kg sono stati rinvenuti dagli uomini della capitaneria di Porto di Fano a Torrette a Ponte Sasso e a Baia Metauro qui si riferiscono le immagini che state vedendo come da Prassi poi è stato attivato l'ufficio veterinario dell'Asur e l'Aset per lo smaltimento delle carcasse sull'ipotesi dei decessi al momento non sono state formulate ipotesi nessuno dei tre esemplari però presentava segni di morte violenta a Pesaro Pesaro ha ottenuto l'assegnazione del dodicesimo campionato europeo di aerobica che si svolgerà nel 2021 La città di Pesaro ritorna a essere capitale europea dello sport ottenendo l'assegnazione del dodicesimo campionato di aerobica 2021 e del trentesimo campionato di acro due manifestazioni sportive professionistiche di ginnastica aerobica e acrobatica che si terranno presso il nuovo Palasport in Viale Partigiani dal 20 al 26 settembre e dal 27 al 10 ottobre 2021 la manifestazione promossa dalla società Esatur Group ha ottenuto l'adesione da parte dell'amministrazione comunale Come città abbiamo sempre deciso di puntare sullo sport sul turismo sportivo e quindi questo ci permette sicuramente di allungare la stagione sportiva Il campionato sarà suddiviso in due parti coinvolgerà circa 3.000 persone tra atleti e dirigenti La competizione sportiva dura tre settimane perché si tratta di tre diversi campionati europei La prima settimana è il campionato europeo di ginnastica aerobica La seconda settimana è il campionato europeo di ginnastica acrobatica riservata ai ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 18 anni e la terza settimana il campionato europeo di acrobatica però riservato ai senior I paesi coinvolti sono più o meno una trentina per l'acrobatica e circa 23-24 per l'aerobica da tutta Europa L'aerobica nello specifico consiste nelle esecuzioni di coreografie che gli atleti sono tenuti ad effettuare con elementi obbligatori e a scelta su un'apposita pedana omologata con base musicale l'acrobatica invece deriva dalla ginnastica artistica viene eseguita sulla pedana del corpo libero a tempo di musica con movimenti acrobatici e coreografici complessi attraverso un preciso lavoro posturale si tratta dunque di due discipline sportive differenti che raccoglieranno migliaia di appassionati a Pesaro rappresentando sede ideale a livello nazionale e internazionale questi campionati europei di acrosport e aerobica quindi arrivino in un momento speciale speriamo di poterli fare nel nuovo nel vecchio Palace come ci è stato promesso l'unico mio crucio da Fanese non poterli fare a Fano per mancanza di impianti e c'era gente proveniente da ogni parte d'Italia anche domenica scorsa a Monbaroccio per seguire per partecipare e per ammirare i mercatini di Natale secondo weekend di Natale a Monbaroccio con presenze di visitatori da tutta Italia a segnare il passo degli arrivi i tanti pullman che fanno registrare un numero sempre crescente ma anche i visitatori provenienti dai luoghi limitrofi assicurano come ogni anno un buon flusso di gente durante tutto il fine settimana a riscuotere sempre un grande successo ed acclamazione la caratteristica di questo storico mercatino che lo ha sempre distinto dagli altri ovvero la magica nevicata in piazza che vede sempre negli orari previsti una piazza gremita di gente con il naso all'insù nell'attesa dei fiocchi di neve soddisfazione ed orgoglio per il risultato centrato anche in questa edizione da parte del presidente della Proloco Damiano Bartocetti è sempre una grande emozione poi vedere arrivare così tanti turisti oggi pomeriggio veramente il nostro borgo è stato invaso da tanti turisti da tanti bambini una grandissima soddisfazione non nascondo che sono anche tanto tanto emozionato perché ecco proprio qui siamo nel fulcro dove i volontari lavorano e si impegnano ogni giorno e oggi vedere così tanti turisti così tanta gente contenta soddisfatta non può che renderci orgogliosi quest'anno è da registrare rispetto alle passate edizioni un maggior coinvolgimento del corso principale con quasi tutti i locali aperti e diverse saracinesche alzate che ospitano paesaggi e scorsi suggestivi sempre a tema natalizio che vengono utilizzati dai vari visitatori per una foto ricordo di sicuro effetto scenico da mandare a parenti ed amici lontani per suscitare un po' di invidia ma anche invitarli a visitare quello che è diventato il vero punto di riferimento per il centro Italia in tema mercatini natalizi abbiamo dei gruppi di lavoro che collaborano e collaborando lavorando insieme si possono ottenere risultati ma soprattutto vedere che la promozione turistica commerciale il lavoro si lega alla cultura ai nostri musei il museo della città contadina dell'arte sacra in modo tale chi viene a Monbaroccio e si porta a casa un ricordo nel cuore e nella mente di tutto un percorso promozionale culturale turistico per me è una grandissima grandissima soddisfazione appuntamento con Natale a Monbaroccio si rinnova quindi quest'ultimo fine settimana il prossimo 7-8 dicembre con un calendario pieno di iniziative in particolare sabato con la cena di Babbo Natale su prenotazione e con posti limitati ma si prosegue sempre con la magica nevicata ed il laboratorio della pasticceria di Babbo Natale e tanto altro ancora e il servizio da Monbaroccio chiude il telegiornale di questa sera grazie per averci seguito vi auguro una buona serata tra poco guarda chi c'è domani mattina invece alle 7 c'è Occhio ai giornali la rassegna stampa in diretta alle 7 arrivederci grazie a tutti